Renato Boero è stato nominato presidente della multi-utility IREN, partecipata dal Comune di Torino per i prossimi tre anni al posto di Paolo Peveraro. Lo ha deliberato l'Assemblea degli azionisti di IREN, tenutasi a Reggio Emilia. I soci hanno anche approvato il bilancio 2018, la proposta di dividendo pari a 8,4 centesimi per azione. Massimiliano Bianco è stato confermato amministratore delegato.